Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Mini Motorways Era da tanto tempo che non ci giocavo, quindi oggi che ho voglia penso di registrare un episodio Vediamo un pochino cosa è cambiato, quali novità sono state apportate al gioco, quali miglioramenti ci sono Non avevo fatto grandi progressi, dire il vero, mi ho fermato a Dare Salam Però ci sono tante altre cose da provare, senz'altro Quindi vediamo un pochino Mosca, proviamo Mosca Quale modalità mettiamo? Rosso mi piace molto, molto bello Quindi direi di iniziare a giocare Questo nuovo ritorno su Mini Motorways Ovviamente non ricordo le strategie da utilizzare Ho un ponte e grazie al cielo posso utilizzarlo Quindi utilizziamolo subito Non mi ricordo neanche i tasti, banalmente Ma facciamo una cosa di questo tipo E va bene Per ora ci siamo Come si faceva a velocizzare tutto così? Ok, velocizziamo Dopo della velocità Non abbiamo tempo da perdere Il lago ha il fiume, volevo dire Ha un nome impronunciabile Quindi evitare di farlo E andiamo avanti Mosca, mosca Vorrei che... Ok Un altro giallo Qui ci sono tre Posso? Posso Più che altro devo fare per forza così Non ho un'altra scelta Per il momento almeno Posso fare così Vorrei evitare che qui ne spuntasse un'altra O anche qui Altrimenti ce ne sono sempre due vicine E non ne voglio una qui Perché dovrei usare un altro ponte Vediamo I ponti senz'altro sembrano utili Perché qui c'è questo fiume abbastanza luogo Quindi potrebbe essere un problema Non avere i ponti Eh, neanche... Non ho fatto neanche il tempo a dirlo Molto bene Ovviamente non mi danno i ponti Non è che scherziamo Allora, intanto scegliamo questo L'unica alternativa che ho per ora È collegarla qui E collegare anche queste qui Anche se è davvero terribile Però Però non c'è altra soluzione Magari posso mettere una rotta... No Neanche, ok Dobbiamo aspettare Aspettiamo Ma Qui magari sarebbe il caso di non far uscire Qualcosa Eh, però Così non mi aiuti Gioco Non è possibile Prevedo che questo episodio Sarà molto breve Perché davvero Sta già andando tutto molto male A meno che non faccio una superstrada Così da qua Proviamoci Ho finito le strade Cosa è successo? Qui scolleghiamo Qui no Questo sì Questo sì Questo meglio così Questo anche meglio così Questo la cancelliamo La cancelliamo E proviamo a fare in questo modo Qui non serve Questa va bene Vai di là Bisogna cercare di tenere i colori separati Tipo qui come ho fatto non va bene Ok, ponte Allora Pausa, 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 pausa Questo collegamento qui Non mi piace per niente Quindi separiamo queste cose Facciamo un altro ponte Qui Anche se forse è un po' esagerato Però Bisogna tenerle separate E andiamo avanti Per ora Sta procedendo tutto bene Queste due sono soddisfatte Questa grigia è soddisfatta Quella azzurra è più che soddisfatta Vediamo cosa Accadrà più avanti Qui Non lo so Non mi ricordo le strategie da adottare Eccetera Possibilmente Vorrei che qui Non mi facesse Uscire nessuna Casetta nuova Cioè O si Boh Non lo so Vabbè Affidiamoci al caso Al destino Al fato Ecco qui Era meglio Non affidarsi Troppo Mi servirebbe un altro ponte Vediamo se A fine settimana Me ne danno uno Impossibile Che questo sia così lento Fermi tutti Questo azzurro Lo posso collegare qui Ci metto una rotonda Così l'aiuta Questo lo collego Qua E va bene Però questi gialli Come li faccio arrivare Questi gialli Mi serve un ponte Per favore Prima che Serve un ponte Per favore Datemi un ponte Prima che questo giallo Impazzisca Altrimenti devo ricollegare Quelle grigie qui Utilizzare questo ponte In maniera più efficiente Venerdì Dai che finita la settimana Magari mi esce un altro ponte O un'autostrada Accetterei anche quella Dai che qui Qui sta iniziando Ad avere problemi Cosa Quindi devo fare per forza Così Non posso collegarla così Sì Questa la porto qui Ho bisogno di un ponte Per favore Sono tutto qui per forza Autostrada Va bene Autostrada Allora Questa casetta E quest'altra Diciamo che per ora Le collego Qui Questo grigio Vorrei collegarlo In maniera alternativa Ma non è possibile Quindi quelle grigie Devono fare tutta questa strada Per arrivare lì È un bel problema In futuro Andrà cambiata Questa cosa Per ora Sembra funzionare Queste gialle Saranno sufficienti Qui Sono Abbastanza sicuro Di sì Va bene Queste azzurre Sono un bel po' La mappa È diventata grandissima Ma le strade Le abbiamo Questo verde È molto carino Che Viene qua Lo posso collegare così Questo Lo posso collegare Così E siamo tutti felici E contenti Ora Se mi spuntasse Un'altra casettina verde Qui Non sarei molto contento Ma penso che Non la utilizzerei Queste qui sono necessarie La rotonda Qui Posizionata bene Qui c'è un altro fiume Qui Non voglio niente Per favore Eh Qui c'è tanto spazio Va bene Questo comunque È una partita di prova Tanto per divertimento Non Non ho fini Fini di fare qualche record Mondiale O qualcosa di questo tipo Questa casetta Che non la utilizzo Ormai Vorrei utilizzare Queste due qua sotto O almeno una Ma non ho nulla a disposizione Attualmente Quindi se Ricevessi un ponte Per favore Grazie Allora Questa autostrada Qui è molto sprecata Però Non ho neanche Molta scelta Perché Quelle casette Già Mi servono qui Non posso fare una mega strada Io posso utilizzare un ponte No Solo uno Non posso fare Così per esempio Sì vedete Questo è un unico ponte Però i ponti Non possono essere collegati Questa è la cosa brutta Allora Cosa posso fare Posso collegare Questa casetta grigia Magari Posso fare in questo modo Allora Fatemi pensare Queste le scollego Da qui Si può spostare Ok Queste le collego Così qua Con un ponte Anche questa Se riesco Qui Questa la posso collegare Qui Però così mi sembra Di spiegare spazio Boh Forse è uguale Questa grigia Dovrebbe arrivare Comunque qui Queste Ci sono queste due Qui Che vanno da questa parte Magari Qui ce ne sono due E qui ce ne è una Vabbè Però le lasciamo così Vediamo cosa succede Di strade Ne ho tante Blocchiamo qui Blocchiamo qui Boh Come si fa così Oppure qui Blocchiamo 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 Qui E collegarla No Così Sprego una strada Così Non so se poi qua È fonte di ingorgo Però Possibilmente Abbiamo risolto Questo problema Colleghiamo anche questa Non così A favore Qua Ok Queste casette verdi Ce ne sono Un'altra Va bene Vorrei separarle Sono troppe Però Vabbè Per ora Per ora Non abbiamo problemi Siamo a 209 Come punteggio E si va avanti Si va avanti Queste grigie Bianche Sono Tranquille La situazione È sotto controllo Autostrada Numero 1 Funziona Il colore giallo Questa Non la utilizzerò mai È inutile Non la utilizzerò mai Va bene Però grazie Gioco Per Per noi proposte 30 strade Una rotonda E 20 strade Beh Io sceglierei Sinceramente Una rotonda E 20 strade Oppure Aspettate Scusate Qui c'è quelle gialle Potrei Potrei Togliere l'autostrada Ok Queste le collego Qui Questa non so Se posso collegarla Qui Ok Così queste Comunque Hanno una richiesta Maggiore Dato l'hotel Qui come possiamo Chiamarlo Queste gialle Potrei Collegarle Qui E magari Riesco ad inserire Una rotonda Non so se c'è Abbastanza spazio Purtroppo No Purtroppo No Potrò poter mettere una rotonda Qui In questo modo Vediamo se ha senso Questo che ho fatto Eh la rotonda Era più utile Qui Immagino Però va bene Proviamoci Eh mi serve un ponte Come faccio Non faccio Semplicemente Ah ho l'autostrada Aspettate Allora Fermi tutti Cosa sta accadendo Qui mi serve davvero L'autostrada Non posso fare Altrimenti Annaggia Dovevo bloccare tutto Lì lo sapevo Però Utilizziamo L'autostrada C'è poco da fare Mettiamo qui E le colleghiamo Tutte così Carine e coccolose Questo azzurro Questo azzurro Vorrebbe fare Pure lui qualcosa Siamo solo a lunedì Vediamo se resiste Non lo so Speriamo che la posso Mettere qui Vediamo se resiste Non saprei che dire Altrimenti Altrimenti Queste azzurre Le devo collegare Da qui Potrei collegarle Proviamo a fare Una cosa di questo tipo Qui ci sono Due azzurre E ci hanno Una Io le lascerei Semplicemente Queste casette Che sono tre Quattro E queste altre tre Queste altre tre Casette Le farei andare In un modo Alquanto Brutto Qui E da qui Le farei arrivare In questo modo Proviamo A vedere Se funziona Questa la posso collegare Così Meglio Questa la posso collegare Così Meglio Questa la tolgo Qui c'è Ho già un ingorgo Non mi piace Però Non è un problema Obiettivo sbloccato Va bene Sta andando già male Ho brutte previsioni Sinceramente Qui c'è un altro giallo Posso collegarlo Ma Vediamo Sabato Vi servirebbe Un ponte Così sistemo La questione Viola Qui azzurro Lilla Niente Davvero Semaforo I semafori Dovrebbero essere Stati potenziati Un bel po' Di tempo fa Non ho avuto Il tempo Di sperimentarlo In prima persona Però le rotonde Sono utili Rotonda Dove posso mettere Una rotonda Che mi aiuti Qua ce ne sono Altre azzurre Wow Facciamo così Facciamo così Facciamo così E qui È necessaria Una rotonda Qui c'è Un'altra azzurra Anche qui Sarebbe necessaria Ma Questo È terribile Così Eh vabbè Ho capito Ma quante azzurre Ce ne sono Questo bianco Si è ingrandito Questo giallo Lo posso mettere qui Qui non voglio che Eh Neanche farlo apposta Ok Però Non sarebbe meglio Farlo così E cancellare Scusa Amico Per favore Va bene Facciamo così Questa azzurra Qui Non ne vedo il senso Però Ok Grazie Gioco Grazie Grazie mille Queste bianche Sono tantissime Fermi tutti Questa sta accadendo Eh non posso fare Un ingresso Separato Per queste Vero Che queste bianche Che queste bianche arrivano Da qui L'autostrada La dovrei utilizzare Per questa azzurra E quella bianca La lascio separata Quindi proviamo Ad attendere Un attimo Attendiamo Qui vabbè Si è creato Un quartiere Totalmente bianco Totalmente casuale Speriamo che ci dia Un ponte Grazie Allora Sistemiamo qui Togliamo l'autostrada Mettiamoci un ponte Per favore Facciamo così Lei Dammi l'autostrada Grazie Allora Allora Questo azzurro Non lo voglio collegato Così Per favore Questo bianco Rimane qui Queste le togliamo Mettiamo un'autostrada Che va da qui Fino a qui Ci colleghiamo Queste azzurre In questo modo Facciamo così Vediamo se va bene Vediamo che ne pensa Il gioco Di questa Manovra Queste azzurre Sono C'è tanta richiesta Facciamo così Pure questa La mettiamo qui Questa Ce la risparmiamo Questa La possiamo collegare Qui Pure questa Il verde Qui Chiede tantissimo Ma noi Ci siamo Siamo pronti Capirai Questa verde Rimarrà lì Per sempre Il bianco Qui è soddisfatto Queste gialle Qui c'è un ingorgo Pazzesco Qui devo mettere Un semaforo Sicuramente Ma non saprei Questa la possiamo Collegare qui Qui c'è tanto traffico Creerà problemi A lungo andare Sono sicuro Queste bianche Qui mi sembrano Un po' sprecate Ma io ne collego Un'altra Un'altra Vediamo Questa viola Qui Nessun problema Questo verde È un problema È un problema Dovrei usare Un'altra autostrada Per collegare Queste gialle A quest'altra E lasciare Libero spazio Per le casette verdi Quindi speriamo In un'autostrada Ciò che desideravo Per Per fare cosa Togliere questa rotonda Che di sicuro Non va così Ma la possiamo fare In questo modo Queste gialle Le colleghiamo Tutte qui Queste si sono Collegate da sole Che carine Ma tu mi servi qui Mettiamo un'autostrada Qui E la colleghiamo Qui a questo giallo In modo tale Che queste gialle Non sono collegate Lì Mettiamo play Quelle verdi Devono essere le uniche A poter passare qui Togliamo questa Vediamo un pochino Se si sistema La questione No Le verdi Passano qui No Ok Ancora per poco Perché si deve sistemare Ok Adesso si è sistemato E passano solo le verdi Qui Ottimo Ottimo Qui passano solo le gialle E va bene Grazie gioco Grazie Molto di aiuto Questa Mettiti da questa parte Queste gialle Dovrebbero stare a posto Comunque Queste azzurre Ho il timore Che imploderanno Prima o poi Qua c'è un'altra azzurra Non so come fare Quelli sono le azzurre Più vicine C'è questo Quest'autostrada Però non va bene Mi serve Come la collego Speriamo che mi dia Qualcosa di utile A fine settimana Queste verdi Qui Perché non arrivano Perché non arrivano Ah ecco Stanno arrivando Eh Si sbrigassero Però Guardate quante ce ne sono Queste azzurre Mi stanno spaventando Tantissimo Ho paura Ho paurissima Giovedì Allora Qui Abbiamo già un problema Abbiamo un problema Abbiamo un problema Dovrei collegare queste Forse Queste azzurre Che qui ce ne sono Comunque tante Pure qui ce ne sono tante Secondo me Questa la posso Collegare qui Vanno da questa parte Spesso di sfare queste Spesso di sfare queste Questa pure la posso Collegare qui Ma queste azzurre Magari le scollego Un attimo E le ricollego Qua con le viola Non ho altra scelta Non posso collegare qui Perché c'è il ponte Lo devo collegare qui E starà terribile Non so neanche se faranno in tempo Ad arrivare Vediamo Provare non nuoce Facciamo così 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 Questo l'ho già eliminato Questo così Vediamo se arrivano in tempo Correte 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 Dai 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 Che ci siete quasi Ci siete quasi Ci siete quasi Ci siete quasi Per favore Ok Ok Ce l'ho fatta Benissimo Questo gioco Mette Uno stress Allucinante Lei è nato un altro viola Mi serve un ponte Allora Queste Come le collego C'ho due viola Qui Ci sono due viola Come le collego Servebbe un'autostrada Non è possibile Queste azzurre Le posso collegare Con una mega strada Per risparmiare L'autostrada Secondo me si Facciamo una cosa Di questo tipo Facciamo Facciamo così Passiamo qua E passiamo Qui E queste azzurre Sono collegate Giusto? Giusto Ok E vanno qui Queste viola Le posso collegare Così 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 Questa non mi piace Questa curva Metto l'autostrada Qui appena Me la restituisce Appena le macchine Terminano di passare Dai Grazie E mi serve Questa viola Crea un altro Gruppetto Qui di Casette viola Magari queste Questo non mi piace Questo non mi piace No il ponte No Mi dico tutto il ponte Eh Non mi toglie il ponte Gioco Il ponte mi serve Non è ciò che volevo Ci può mettere una rotonda Qui tipo Qui si però Cioè Sembra Vorrei fare Questa cosa Guardate Collegare queste viola Qui Ricostruisci la strada Cancella questa Collega questa Il ponte Qui ma Mettilo dritto Ah Ti avrei dritto il ponte Cancella quel ponte Per favore Cancella quel ponte Per favore Cancella quel ponte Vabbè Vabbè Lasciamolo così Ho capito Il problema È che a me Servono queste viola Qui Questa E questa Qui togli 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 Mettila qui Perché mi serve L'autostrada Da queste viola Che arrivino Qui Così poi si separano Vanno un po' a destra Un po' a sinistra Perfetto Queste qui Ce ne sono tantissime Quello Quello Questa curva Qui non mi piace Per niente Questa viola Qui Ma che serve Scusatemi Scusatemi Qui c'è del traffico Va bene Ma stanno andando Funziona Qui c'è una gialla Che non so Se sarà utile Qui potrebbero Resserci problemi Magari devo potenziare In futuro Servono tante autostrade Questa non mi piace Qui Scollegala Per il resto Per il resto Contro queste gialle Ho problema qui Con le gialle Devo collegare In autostrada In più Forse Non capisco Devo mettere Una rotonda Ma non ci passa Non ci passa Mi serve un altro ponte Per separarle Sì Devo separarle A tutti i costi Quindi Speriamo che Per il momento Resistano Vediamo se mi do Un ponte Ovviamente no Semaforo Serve un semaforo Qui c'è Tanto Tanto Ah ce l'avevo già Tra l'altro Mettiamo un semaforo Qui Che ci aiuta Queste bianche Come le porto Da dove le faccio Arrivare Questo lo posso Mettere qui Questo lo stacco Vediamo Magari Queste gialle Le posso No Non le posso Queste bianche Le prendo da qui Sì Le prendo da qui Facciamo una cosa Di questo tipo Guardate Totalmente A caso Ok Così c'è un po' Di bianche Che vanno qui Questo è sistemato Queste gialle Vorrei tanto sistemarle Vediamo se già Il semaforo aiuta Il semaforo Dovrebbe aiutare Lì c'è un problema Devo costruire un altro ponte E separare le casette Metto tre a sinistra E tre a destra Però non so Se comunque Saranno sufficienti Queste azzurre qui Anche c'è un po' Di richiesta extra Perché questo Ponte Questo collegamento Qui è terribile Queste azzurre pure Non bastano Per quale motivo Non capisco Per quale motivo Non bastano Queste azzurre Ce ne sono 3000 Qui Queste azzurre Anche qui c'è un problema No 1300 Scusate per la tosse Quelle verdi Ok Quelle altre Ok Già non si capisce nulla Attenzione Terribile Quelle gialle C'è un problemone Qui c'è un mega problema Non va bene Non va bene Ok Si è sistemato Ma la situazione È tragica Non va bene Questa cosa Un altro viola Per favore Mi serve un ponte Gioco Se non mi dai un ponte Come pretendi Che io vada avanti Grazie Allora Pausa 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 Ponte Scollega Scollega Queste No Per favore Gioco Mandamele solo qui Andiamo Per favore Mandamele solo qui Si sono separate Non si sono separate Attenzione Aiuto Allora Qui ci sono queste altre viola Ma che vi devo fare Collegatevi così Allora Voglio Ok Sono riuscito a scollegare A questo Ok Dovrebbe essere scollegate Questo deve andare Questo deve andare qui Ok Adesso sono scollegate No Qui ho quasi perso No No Per favore Eh ho perso Ho perso Ho perso Che pizze È proprio la prima Che era spuntata Eh bisogna prestare attenzione A come si imposta la partita A come si imposta Bisogna stare davvero attenti Vai al menu Non so se ho sbloccato il prossimo Sì ok Ho sbloccato Monaco Bastavano 300 viaggi Va bene Non era così difficile 1500 mi sembra un po' poco Ok ho fatto 2000 Qui 3000 2000 e mezzo Quasi 3000 Insomma Non è stata un'ottima partita Però va bene così Grazie a tutti per la visione E al prossimo video